che è rimasto per adesso in sospeso a livello parlamentare i diritti delle coppie conviventi sul quale a un certo punto mi era parso che tra l'opinione prevalente nel Partito Democratico e anche quella di Matteo Renzi, modello tedesco, e l'opinione di Niki che storicamente sta su questa trincea non fossero così lontane. Sbaglio o è possibile su questi due temi un incontro, un venersi vicino? Niki, dici, dici. Allora, se ho due minuti, divido la questione in due... un minuto e un minuto. Un minuto mi devo riagganciare, è la cosa più importante però, la cosa di cui abbiamo parlato prima. Siamo al settimo anno della crisi.